chi c'è claudio no 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 ciao agostino sono io gigi io stai ma ciao ciao no no claudia da quanto tempo ceva è morta che non lo so io matti mani io metti c'è gli aici se lo so fa schifo ma che schifo che metti il cuore capra e quindi adesso l'hai ristallato quindi appena ho scritto live con mio cugino fausto lei è entrata chissà se ancora si ricorda di te sicuramente il cugino è un interista molto male lui juventino è nato male purtroppo sono io quello della merda ho tutti i cugini interisti proprio tutti no stasera occhio all'aquila ragazzi no ma io vorrei io vorrei però che una semifinale ci fosse fra inter e juventus ora è la semifinale inter e juve bravo facendo un porno dai metti i cuori bravo e poi finale con l'alessandria l'alessandria no juve alessandria di bollo bravo metti qua metti qua sei mettendo i cuori bravo vai voglio i cuori sgancia i cuori ho i cuori bobi silvio purtroppo non c'è che a scuola ha fatto la verifica sta facendo la verifica niente scuola lui no perché fatti il cazzo a te no scherzo c'è l'allerta meteo ciao però ciao ciao diego ciao che mi dice sky arcanio oh è niente su di lisi niente su di lisi io mi prego c'è uno lockboard ma ieri si bloccava la live no? da me si si però riuscivi a scrivere si si però riuscivi a scrivere però si ma si è bloccato non ti vedevo ma sempre non sei riuscito mai a vedere no no ti vedevo ah forse verso l'ultimo che ho scritto la live è l'ultimo si perché poi dopo si non è tutta la connessione può muovere pure chiamato quindi quando mi chiamano puoi sotturare la live ah con lisa questo lisa non lo mi so stefi ciao stefi stefania si cacciate i cuori bué frega ciao ciao stefi rosalista si questa la conosci cioè la conosci sono all'inizio buongiorno dal belgio bella madonna bella mados buongiorno ciao stefania alvini idoli 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 di che cosa Claudia ci devo pensare ma le cuore parli napoletano no no pareggiegi Federico Loffredo ciao Federico buongiorno si cacciate i cuori bravo bravo ma te ne fai mai alai no mi scorso ma perché dici che data non è andata se oltre me bravo ciao stefania addio peri scoppa oh che ti faccio sapere stasera si si tutto bene tutto bene stefi tu sono i idoli si analisa analisa scarroni l'italiano è meglio scappare mi hai visto scoppa la calabria fa calabria dovete morire tutti quando un uomo si morti mam da putt buon calabria ciao ciao la calabria la devi toccare sto strozzo la calabria nel cuore calabria nel cuore e c'è manca la putt ciao ciao e non se n'è andato il mio cugino che fai niente tu che fai giustamente niente non più telepatia infatti lui fammi non dal letto eh no la live sto facendo stai c'entra un altro il mio cugino è un lavoro ora oggi niente oggi niente oggi niente perché c'è stata la neve quindi niente lavoro musica si bloccava eh lo so la connessione fa cagare stefi si è nevicato qui ieri però si è sciolta subito per la pioggia e poi c'è stato allertamento e hanno chiuso la scuola pure che lavoro fai di bello ma lo dico sempre vendo pesci stefi tu come stai tutto bene tutto a posto fa piacere dai davvero è che tutto ne ho fatto sapere ah speriamo bene fammi sapere poi quanti gradi ci sono ma non lo so sinceramente saranno due o un grado un grado sicuro perché fa troppo freddo che mi chiamano loro poi mi fai sapere dai un bocca al lupo mi raccomando meno uno meno due da te eh da me ieri c'erano meno uno meno due gradi c'erano l'altra volta meno otto madonna mia è stato pazzesco da me ieri c'erano buono buono comunque fatti sentire ogni tanto claudio cioè non è che pure su facebook ce lo fatti sentire è da tempo che non ti sentire dal freddo bevendo l'acqua è freddo sì no no così 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 me ne rendo conto e come no vabbè e allora come fa come faccio cioè ho il tuo numero ah il tuo numero io a meno che non l'hai cambiato sì troppo freddo sì a meno che non l'hai cambiato ma io ho il tuo numero tu novità sul lavoro sto lavorando con mio padre per adesso poi non lo so non mi hanno fatto sapere niente nessuno come un altro numero io c'è il tuo stato di whatsapp instagram neanche c'hai se n'è andato se n'è andato se n'è dovuto andare va bene ok comunque ragazzi ci sentiamo pomeriggio farò una live pomeriggio farò una live pomeriggio quindi spero ci siate ciao ciao